Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 163 e io sono come sempre Francesco. Vi siete mai chiesti cosa succede dal momento in cui premete invio dopo aver chiesto al vostro browser un sito a quando questo compare con tutte le immagini, i testi e le pubblicità sul vostro monitor? Che la risposta sia sì oppure no, oggi ve lo racconto. Solitamente per visualizzare un sito web si usa un programma che si chiama Browser Internet, nella storia per i più vecchi ci si ricorda di Internet Explorer e Netscape, poi i tempi sono cambiati e adesso ce ne sono decine e decine, i più conosciuti adesso sono Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, Apple Safari, è un enorme sottobosco di browser meno conosciuti ma altrettanto validi. Il browser a che serve? Serve a renderizzare, in parole più semplici, a interpretare i linguaggi con i quali sono costruite le pagine web, l'HTML e il CSS, di solito in modo che siano gradevoli all'occhio umano. In questa puntata faremo un sacco di divagazioni e puntualizzazioni, la prima è adesso. HTML non è un linguaggio di programmazione, come potrebbe essere Python, PHP e il C, ma di markup. Spiegarne le differenze non è il scopo di questa puntata, ma è importante che sia chiara la differenza, quindi è un linguaggio di markup e non di programmazione. Torniamo a noi, voglio aprire un sito, lo scrivo nella barra degli indirizzi del browser e faccio invio. Immaginiamo di aver scritto un nome di un sito qualunque, con molti contenuti, ad esempio il sito lastampa.it. No, non mi ha sponsorizzato la puntata, è il primo sito che mi è venuto in mente mentre la stavo scrivendo. Il computer adesso deve raggiungere un posto dove risiede il server che ospita il sito che voglio vedere. Come faccio a sapere dove sta? Chiedo al DNS. Senti DNS, a che indirizzo trovo il nome lastampa.it? Dove sta questo DNS? Nelle impostazioni di rete potrei aver impostato come DNS il mio router interno, oppure un DNS pubblico come quello di Google, oppure un DNS particolare come P.I.all, che assolve anche ad alcune altre funzionalità, come il filtro di contenuti. Qualunque sia la mia configurazione, il DNS, per come è fatto e funziona, mi restituisce un indirizzo IP che è quello dove risiede o almeno al quale risponde il sito lastampa.it. Ne ho parlato del DNS nella puntata 63. Qui potrebbero entrare in gioco dinamiche di rete molto complesse, con siti su molti server in molte zone del mondo che bilanciano il carico. Io la faccio facile e immagino che il sito sia su un solo server. Il computer sa quale è l'indirizzo, va lì e chiede ciao, mi dai la home di lastampa.it? Altra piccola parentesi. Moltissimi server web sono condivisi, quindi è assolutamente normale che a un solo indirizzo IP pubblico rispondano decine di siti web diversi, con nomi a dominio diversi. Il server web, che quando arriva alla richiesta al suo IP, verifica che sito si desidera e fornisce quello corretto e non un altro. Arriva quindi la richiesta al server, che deve rispondere con il contenuto della home del sito lastampa.it. Il browser del PC sa renderizzare le pagine HTML e CSS, come abbiamo detto. Può anche elaborare alcune parti di codice, come ad esempio Java o JavaScript, che attenzione, anche se il nome è molto simile, non sono neanche lontanamente parenti. Ma non può elaborare codice scritto per essere elaborato lato server, come ad esempio PHP, Python o ASP. Quindi se una pagina web ha del codice scritto in alcuni tipi di linguaggi, prima va elaborato lato server, per esempio tutte le chiamate IDB e elaborazioni varie. Poi viene inviata al client di destinazione, dove viene terminata l'elaborazione e rendering finale. Ma c'è un grande ma. La pagina non contiene solo HTML e un po' di JavaScript. Questo succedeva tanti tanti anni fa. Adesso le pagine web contengono una quantità inenarrabile di cacca. Cacca che si riassume in contenuti esterni, che quindi sono contenuti su altri server, che il browser chiama man mano che renderizza la pagina. Quindi nuove chiamate a nuovi server, altre richieste DNS, altri download di altri dati e così via. In certi casi i contenuti multimediali sono ancora su siti diversi, quindi dal server principale si scarica l'ossatura del sito, poi da altri siti si scaricano le parti più pesanti e via di nuove richieste DNS. E qui entrano i servizi come PIO e NextDNS. Ne parlerò in puntate successive, segnatevelo. Tutti i contenuti pubblicitari sui siti web sono solitamente esterni e risiedono su, ancora, server che fanno soltanto quello. Riforniscono e tracciano contenuti pubblicitari e utilizzatori. Esistono delle enormi liste di questi siti. Se io so che il sito pincopallino.com è uno di questi siti e lo metto all'interno di un mio server DNS personalizzato, posso fare in modo che tutte le richieste di risoluzione del nome di pincopallino.com restituiscano un indirizzo non valido. In questo modo il mio pc non lo può raggiungere e non potrà visualizzare la pubblicità, perché non avrà modo di scaricarla, ma sarò più dettagliato, più in là, in qualche altra puntata. La stessa cosa vale per contenuti malevoli da siti noti. Il problema si risolve alla radice. Il computer non raggiunge i siti che non voglio che siano raggiunti. Adesso abbiamo tutti i contenuti buoni sul pc e il browser quindi che fa? Non è proprio vero, se no l'esperienza utente sarebbe pessima. Pagina bianca per un po' e poi compare tutto di colpo. Ci sono metodi per iniziare a caricare e renderizzare i contenuti man mano che arrivano, ma qui facciamo le cose un po' più semplici. Sembrava tutto facile, invece non è mai facile nell'informatica. Il browser ha tutte le informazioni per creare la pagina, così come il designer del sito web voleva che apparisse all'ospite del sito. Gli è arrivata tutta in un formato testo e lui è pronto a interpretarlo per farla vedere in tutto il suo splendore. Colori, immagini, link ipertestuali e tutto quel che serve per rendere una pagina web gradevole alla vista e usabile. Chi progetta i siti web fa un gran lavoro perché ormai le pagine devono essere adattabili a ogni dispositivo che si collega al server. Non l'ho detto prima per evitare di incasinare ancora più la questione, ma quando il client, il mio pc, il mio telefono o altro, si presenta al server web e gli dice ciao vorrei vedere questa pagina, il server gli chiede ma tu chi sei? E il client gli risponde sono un pc con il browser chrome con una risoluzione video 1220x1080, oppure sono un android con il browser brave e una risoluzione di 2160x1080, quindi in verticale. In base a queste e altre mille informazioni, il server fornirà uno stile della pagina che potrà essere visualizzata in modo coerente sul dispositivo e sul browser che l'ha chiesta. Vi è mai capitato di aprire uno di quei siti che non ha l'impostazione per essere visualizzata da telefono su un telefono? Aprite nimbus.it e poi ne possiamo parlare. Vi assicuro che per chi progetta le interfacce grafiche di siti web questa gestione è un vero delirio, anche il fatto di capire come ogni browser capisce e renderizza le impostazioni dei vari stili css, è un disastro. A caricamento e renderizzazione effettuata ecco a voi la pagina web, gradevole ai vostri occhi, pronta per essere utilizzata con tutti i pulsanti al loro posto, le immagini, le animazioni e tutto quel che ci deve essere. Per fortuna da gennaio 2021 non ci sarà più flash. Se volete vedere come è scritta la pagina web che state guardando, col browser del pc, che è più facile, potete fare clic con il tasto destro e selezionare la voce visualizza sorgente pagina. Ce l'hanno un po' tutti i browser. In questo modo potete andare a vedere cosa c'è sotto a tutta la bella impaginazione che vi allieta gli occhi. Vi renderete conto che non c'è una sola riga di linguaggio tipo PHP, ASP o Python perché quella è tutta elaborazione che viene fatta sul server web che ospita il sito. Quindi al client non arrivano mai i sorgenti di questo tipo della pagina ma solo il risultato dell'elaborazione. Tutte le informazioni per contattarmi e sostenere il podcast, compresi tutti i link di cui ho parlato in puntata, le trovate come al solito su Pidole di Bit col punto prima dell'it. Mi trovate su Twitter come Pidole di Bit o Cesco underscore 78 oppure via mail scrivendo a Pidole di Bit chiocciola gmail.com. Il gruppo Telegram è comunque il miglior modo per partecipare. Anche qui il link sta sul sito. Se volete donare qualcosa potete usare Paypal o Satispay. Se donate più di 5 euro vi spedisco gli adesivi. Se vi abbonate a 5 euro al mese vi mando la tessera numerata. Se volete potete persino donare in Bitcoin. Il link al borsellino lo trovate sul sito. Grazie a chi ha contribuito. Se volete una consulenza tecnica in campo informatico trovate tutte le informazioni su iltucci.com slash consulenza. E se volete sponsorizzare una puntata del podcast le informazioni sono su Pidole di Bit col punto prima dell'it slash sponsor. Da qualche tempo il sito Pidole di Bit ha cambiato casa ed è in hosting presso un provider italiano del quale sono molto soddisfatto e che ha deciso di sponsorizzare alcune puntate del podcast. Zerdai è il brand di hosting di un provider di Rimini con sede a Milano Parvati SRL sul quale ho il piacere di gestire parecchi siti e che ha una caratteristica fondamentale che lo differenzia da tutti gli altri. Gianluca non è l'unico a gestirlo eh col cavolo che io sarei andato a dare i siti dei miei clienti a un hosting provider gestito da una sola persona che sia il mal di pancia poi non funziona più una mazza. Se io ho un problema so con chi parlo ha una faccia, ha anche due gatti e un cane bellissimi ma non servono a far funzionare i siti e ha una professionalità che raramente ho trovato altrove. Il pacchetto di hosting è completo al cpanel per tutta la gestione, permette di creare utenti ftp con le loro cartelle, ha l'accesso sh al server, ha un reposito di git utile per chi sviluppa, permette di gestire in maniera completa il sito anche i domini di terzo livello e tutti i certificati SSL che servono per farli funzionare. Ricordo ancora un giorno che mia moglie che ha il suo sito professionale sui suoi server ha avuto un problema con un aggiornamento, pianti dolorosi e lacrime. Ho scritto Gianluca riesci ad aiutarmi a ripristinare il backup del sito. In meno di un'ora ha ripristinato tutto, ci ha detto cosa era andato storto e ha sistemato l'errore che ha causato il danno. Io da nerd che vuole stare tranquillo con le cose che funzionano e che se si rompono tornano su in tempi rapidi, mi sento veramente di consigliarlo. Per registrare il sito su 3rdai potete scrivere a domini chiocciola 3rdai.it, non impazzite a segnarvelo, so che è difficile, trovate la mail nelle note dell'episodio. Il pacchetto base che è completo davvero di tutto costa 61 euro all'anno IVA compresa più 18 euro e 30 di dominio. Il primo anno se non erro il dominio ve lo regala. non è un hosting alla buona, è un signor hosting, lo provate e poi non lo abbandonate più. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come al solito il lunedì mattina. Ciao!